Buongiorno signore e signori, il coinvolgimento gastrointestinale è comune nei pazienti affetti da EDS. Vorrei parlarvi di quella che è stata la mia esperienza personale in questo campo negli ultimi dieci anni. Abbiamo condotto ricerche di vario tipo in tal senso, abbiamo cercato di determinare quale fosse il modello tipico di coinvolgimento gastrointestinale. Iniziamo con una descrizione dell'apparato digerente. L'apparato digerente sostanzialmente consta di un tubo molto lungo che dalla bocca va fino all'ano. Dopo la bocca c'è un tratto che sostanzialmente è l'esofago, in fondo all'esofago c'è il nodo gastroesofageo dove l'esofago è connesso allo stomaco, quindi quando ingoiamo un boccone di cibo questo passa tra l'esofago e arriva allo stomaco. Lo stomaco è come se fosse un frullatore, sostanzialmente frulla il cibo, proprio come i frullatori che abbiamo a casa, sminuzza il cibo in piccole particelle e queste particelle vengono poi inoltrate, passate all'intestino. L'intestino è dove inizia la digestione vera e propria. C'è prima l'intestino tenue dove il cibo che serve viene assorbito e il cibo che non serve viene inoltrato al colon. Il colon è un organo molto molto lungo, un organo che è anche deputato all'assorbimento dell'acqua. La parte finale del colon si chiama retto. Quando il cibo arriva al retto è quando abbiamo lo stimolo appunto di andare in bagno. Ora, l'intestino è composto da vari strati. Non funziona il puntatore. Allora, la parte circolare più interna si chiama lumen. Quelle specie di tentacolini che vedete in mezzo sono dei follicoli deputati all'assorbimento dei nutrienti. Questa parte è protetta da una sottomucosa, il cosiddetto plesso submucosale. E poi ci sono altri due strati. C'è un tratto muscolare circolare, un'altra mucosa, ci sono dei nervi e poi c'è lo strato esterno. Quindi un organo piuttosto complesso. E addirittura va sottolineato che le nervature presenti nell'intestino numericamente parlando sono pari a quelle presenti nel midollo spinale. Addirittura si dice che l'intestino è il cervello del nostro stomaco proprio perché è carico di determinazioni nervose. Diamo un'occhiata più attenta all'intestino per vedere dove si va a collocare il collagene. Quello che vedete su schermo, la parte rossa, è il tessuto connettivo che connette le varie parti muscolari, nervose, dell'intestino. I nervi si vedono in fondo, nel plesso parenterico, è lì che ci sono le determinazioni nervose principali. Lì è dove si raccoglie la maggior parte del collagene. Quindi l'intestino, strutturalmente parlando, è ricco di tessuto connettivo, ricco di collagene. Il collagene si tende a raccogliere attorno alle terminazioni nervose nell'intestino. Quindi capite benissimo che se si verificano problemi a livello di tessuto connettivo, l'intestino ne può risentire. I sistemi gastrointestinali sono ben presenti nell'EDS. Cosa è stata scoperta dai professori Graham e Achim nel 2004? Questi pazienti, pazienti affetti da EDS con problemi di mobilità, ipermobilità, pazienti affetti da disordini dello spettro dell'ipermobilità, come potete vedere nella parte evidenziata dell'istogramma, hanno spesso disturbi gastrointestinali associati a questa malattia. Ma dal 2004 è stato svolto molto più lavoro. Questo che vedete su schermo è un elenco dei lavori svolti dal 2004 al 2017, lavoro di ricerca sugli sintomi associati all'EDS, ipermobilità e all'HSD. Come potete vedere è presente un'ampia gamma di sintomi che si manifestano a livello gastrointestinale. Questi sono molto comuni. La nausea, molto molto comune, con un'incidenza pari alle volte addirittura al 71% e il riflusso gastrico, anche questo è un problema molto comune, fino al 69% dei casi, quindi piuttosto comune. Flatulenza, sintomo a livello ambulatoriale rinvenuto con una certa frequenza. La dispepsia, quindi l'incapacità di digerire, l'indigestione, ce ne sono di due tipi. Una molto dolorosa, con tanto dolore gastrico, molto molto comune. E poi c'è un altro tipo di dispepsia, sazietà precoce, anche questa molto comune. Questi sono i due tipi di dispepsia identificati nella letteratura internazionale in pazienti affetti da EDS. Il sintomo più comune in assoluto è il dolore addominale, presente addirittura alle volte nel 100% dei casi. Dolore addominale, molto molto ricorrente, quindi, fra i problemi intestinali, digestivi, c'è anche la titichezza che si alterna però con il problema opposto, quindi la diarrea magari. Questo tipo di problema è molto molto comune. Allora, in uno studio recente, pubblicato solo un paio di settimane fa, vengono messi a raffronto la prevalenza dei sintomi nei pazienti affetti da EDS ipermobile con tutti gli altri tipi di EDS. Come potete vedere, praticamente non c'è alcuna differenza nella sintomatologia, quindi sia i pazienti affetti dal tipo ipermobile che i pazienti affetti dal tipo non ipermobile presentano più o meno gli stessi sintomi. Molto frequente la sindrome d'intestino irritabile, sia nell'EDS ipermobile che nell'EDS non ipermobile. La è interessante anche un sintomo ravvisato con frequenza nei nostri ambulatori, il vomito ciclico si chiama. Pazienti quindi che rimettono per periodi anche estesi di tempo mesi, poi per mesi addirittura anni stanno bene e poi la nausea e il vomito riprende, in associazione anche con emicranie alle volte. Quindi problemi intestinali nell'EDS. Come si possono categorizzare, come si possono suddividere in varie categorie? Per me si tratta principalmente di tre tipi di problema. Problemi meccanici, problemi di sensibilità e problemi così per dire di perdita intestinale. Sono problemi che possono verificarsi contemporaneamente nello stesso paziente. Ci sono pazienti che hanno proprio sintomatologie complesse con tutti e tre i tipi di coinvolgimento intestinale. Parliamo del problema meccanico. Vedo di spiegarlo così. La differenza è la stessa che c'è fra il rubinetto dell'acqua che abbiamo a casa e il tubo da irrigazione, il tubo da giardino. Nel rubinetto l'acqua viene fuori ad alta pressione, molto rapidamente. Più è rigido il tubo, più rapidamente viene fuori l'acqua. È una questione di fisica. Nel tubo di gomma l'acqua esce infatti più lentamente. Ora, quando ci sono problemi a livello di tessuto connettivo, a livello nervoso, a livello muscolare nell'intestino, soprattutto se il collagene è più elastico, è possibile sostanzialmente che il fluido si muova all'interno dell'intestino più lentamente. Come l'acqua si muove più lentamente all'interno di un tubo da giardino, che è fatto di gomma anziché di metallo, come il rubinetto. Il coinvolgimento più frequente avviene a livello rettale. Questo perché ha un diametro maggiore rispetto al resto dell'istentino e c'è un piccolo sottogruppo di pazienti dove si verificano problemi di iperestensione, distensione intestinale. Anche se non è obbligatorio. Ci sono pazienti che hanno problemi di mobilità intestinale ma non problemi legati alla distensione intestinale. In sostanza quello che succede è che nel caso LDS l'intestino è più elastico, più flessibile, è più mobile, più è flessibile l'intestino, minore sarà la mobilità del liquido, maggiore sarà evidente la sintomatologia del coinvolgimento a livello gastrointestinale. Altri disturbi sono legati al riflusso gastroesofageo. Molto spesso nei pazienti affetti da DS l'esofago è debole, lo stomaco lavora lentamente e la combinazione di questi due sintomi fa sì che l'acido dello stomaco arrivi fino in superficie, fino all'esofago. L'acido lascia lo stomaco, arriva fino all'esofago, ritorna giù più lentamente del normale, risultato? Infiammazione. L'infiammazione non si ravvisa sempre e solo nell'esofago. È facile che queste ulcerazioni avvengano, ma raramente nell'esofago, avvengono più spesso nell'intestino e nello stomaco. È facile anche che ci siano difficoltà a deglutire. Ci sono molti pazienti che sentono proprio che il bolo rimane incastrato nell'esofago mentre cercano di deglutire. Perché? Perché l'esofago per deglutire ha bisogno di potersi contrarre a livello muscolare con una certa efficacia. Ci sono studi che dimostrano che in moltissimi casi di pazienti effetti da EDS, soprattutto ipermobile, l'esofago è debole a livello muscolare e quindi il risultato è difficoltà per il paziente a deglutire. Il cibo rimane incastrato nell'esofago e nell'intestino. Disturbi quali l'indigestione e la dispepsia? Vengono descritti a volte come disturbi gastrointestinali funzionali. Perché comunque il paziente ha problemi per esempio di dolore addominale, flatulenza, distensione intestinale che fanno tutti parte di una categoria di disturbi chiamati dispepsia funzionale. Questi sono i sintomi nausea, bruciare di stomaco, questa sensazione di sazietà precoce, appunto la flatulenza come vi dicevo prima. La flatulenza è legata anche a questa sensazione di sazietà eccessiva dopo il pasto. Lo stomaco, la pancia si gonfia anche se il sintomo più frequente, quello ravvisato con maggiore frequenza di pazienti è proprio quello di sazietà precoce durante il pasto. Ora la dispepsia va spesso mano nella mano con altri tipi di disturbi legati alla velocità a cui lo stomaco si svuota, quindi la velocità a cui la digestione, il processo digestivo avviene. La fase predigestiva, quella che avviene nello stomaco è importante per favorire poi l'espulsione delle scorie che ingeriamo assieme al cibo. Se lo stomaco non si svuota rapidamente, naturalmente ci sentiamo sazi prima, poi sviluppiamo anche altri sintomi come nausea, addirittura alle volte vomitiamo e così via. Se lo stomaco, d'altro canto, si svuota troppo rapidamente, anche in quel caso il paziente si può sentire sazio precocemente perché il cibo passa attraverso l'intestino molto rapidamente, questo causa flatulenza, questo causa problemi di vario tipo il cui risultato è ancora una volta sazietà precoce e senza i test adeguati è difficile capire se la sazietà precoce avviene perché lo stomaco digerisce troppo rapidamente o troppo lentamente. Stitichezza, altro problema tipico. In questo caso il paziente ha ingoiato dei marcatori, ingerito dei marcatori che sono stati poi studiati nell'arco di cinque giorni per vedere fino a dove erano arrivati. Al quinto giorno avremmo già dovuto espellere tutto quello che abbiamo ingerito cinque giorni prima. Nel caso di questo paziente, come vedete su schermo, non è stato possibile. Tutti i marcatori sono ancora presenti nel colon, la maggior parte si concentrano a sinistra, la stragrande maggioranza si accumulano a sinistra. La parte destra della foto e la parte sinistra del paziente naturalmente. Pazienti quindi che hanno difficoltà ad evacuare. In un paziente tipo affetto del DS i marcatori passeranno rapidamente e tranquillamente attraverso l'intestino tenue e rimarranno poi incastrati nel colon. Il pavimento pelvico è come si dice pigro. Muscolarmente non si contrae a sufficienza, i marcatori non vengono espulsi, si accumulano nel colon, nel retto, si crea questa sorta di sacca dove si accumula la materia. E questo è il risultato. Come potete vedere questa è la sacca di cui vi parlavo che si forma vicino al retto. La materia si accumula in questa sacca, il paziente va in bagno, evacua un poco ma non si sente libero perché appunto le feci si accumulano in questa sacca e non vengono espulse. Quindi dopo poco il paziente sente di dover tornare in bagno, ci riprova e non ci riesce. Risultati alle volte emorroidi, distensione del retto. Il retto è una parte piuttosto elastica, quindi quanta più pressione si esercita sul sul retto più questo si gonfia insomma con ripercussioni evidenti. Molto spesso i pazienti sono affetti da crampi, dolori addominali, flatulenza. Questo succede a causa del processo di stagnazione. Come vi dicevo l'intestino è un tubo e dovrebbe scorrere un po' come scorre un fiume. Se un fiume smette di scorrere e si trasforma in uno stagno succede questo. Se ci perdiamo in una foresta non berremo certamente l'acqua di uno stagno perché come vediamo è infestata di batteri. Questa cosa succede nell'intestino. Nell'intestino ci sono milioni di batteri. I batteri formano parte di un sistema digestivo sano, badate bene. I batteri ci aiutano a digerire. Se questi batteri però si comportano in maniera poco sana allora il nostro apparato digerente si comporta a sua volta in maniera poco sana. La ripercussione più immediata è l'incapacità di digerire i carboidrati complessi, gli zuccheri, che sono carboidrati che fermentano più rapidamente. Risultato? Il carboidrato fermenta, non viene digerito, flatulenza, quindi dolore addominale, gonfiore. Sono sintomi che si possono curare naturalmente ma la priorità assoluta è il ripristino della funzionalità del tratto intestinale. È importante che l'intestino riprenda a scorrere con un fiume per sistemare anche la situazione della flora batterica. Vi ho parlato prima anche di un'altra categoria di problemi legata alla sensibilità dell'intestino. Ci sono due o tre meccanismi nel tratto intestinale che è importante capire. I meccanismi in realtà hanno luogo non soltanto nel tratto intestinale anche altrove. Ci sono per esempio affetti da gastroenterite, da altri disturbi intestinali che notano che l'intestino è molto sensibile. Dolore addominale, dolore intestinale. I nervi sono così sollecitati che il dolore si estende addirittura anche agli arti alle volte. Quanto più dura il disturbo, più sensibile diventa il tratto. Quanto più a lungo dura il disturbo, più è facile che venga coinvolto addirittura il midollo spinale. Quanto più a lungo vengono coinvolte le terminazioni nervose del tratto intestinale, più è facile che il dolore si estenda al midollo spinale perché le terminazioni nervose vengono sollecitate costantemente. Questo tipo di sollecito è una cosa piuttosto seria perché il coinvolgimento spinale può durare a lungo e causare tanto tanto disagio nel paziente. Addirittura il cervello può vedersi coinvolto, si possono attivare certe parti cerebrali per elaborare meglio il dolore. Quando siamo stressati, quando ci sentiamo ansiosi, il dolore può intensificarsi. Si intensifica il dolore, il dolore aumenta sia nell'intestino sia nel midollo spinale. Il cervello normalmente cerca di diminuire il dolore, mandare degli impulsi che attutiscono questa sensazione di disagio, ma quando perde questa capacità di inibizione naturalmente, controllare il dolore diventa molto più difficile. Quindi nel controllo del dolore è importante capire cosa sta succedendo a livello di terminazioni nervose nell'intestino. Ripeto, l'ansia, la depressione, lo stress peggiorano la situazione, quindi bisogna intervenire a livello sia intestinale che psicologico. Ora vorrei parlare di un'altra possibile causa di dolore molto molto frequente nei miei pazienti, devo dire. Dolore proveniente dalle pareti addominali. Nelle pareti addominali alle volte i nervi si trovano intrappolati fra le fasce muscolari. Sapete, i nervi nelle pareti addominali si interpongono fra le varie fasce addominali. Le fasce addominali sono quelle che gli atleti cercano di allenare in palestra per avere la cosiddetta tartarughina sullo stomaco, quindi gli addominali ben definiti. Ci sono dei nervi che diciamo corrono fra le fibre muscolari a livello infracutaneo. Più si gonfia il muscolo, più il nervo si trova sollecitato, intrappolato fra appunto queste fasce muscolari, in questi canali dove si trovano. È una cosa simile a quello che succede nel nervo mediale, nel tunnel carpale, che fa insomma molto male alla mano, causa bruciore, disagio alla mano. La stessa cosa può succedere nelle pareti addominali e siccome molti dei nostri pazienti insomma hanno problemi posturali, scoliosi e così via, i muscoli dell'addome non sono forti e questo causa dolore addominali, sollecita determinazioni nervose delle pareti addominali. Questi nervi si ritrovano insomma come dicevo prima intrappolati, per virgolette, insomma questo causa dolore. Sono problemi che si possono risolvere con l'esercizio, addirittura alle volte con iniezioni steroidee per sollecitare il muscolo. Il dolore addominale di questo tipo tendenzialmente va e viene, non è presente 24 ore al giorno nelle persone normali. Nei pazienti affetti da EDS però il dolore addominale è costante, 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 anche a prescindere dalla postura che si adotta per cercare di mantenerlo sotto controllo. Il paziente con EDS si può sdraiare e il dolore non diminuisce, si mette in piedi e il dolore non diminuisce. Quando il dolore è così costante è facile che si tratti di questo tipo appunto di sollecitazione della parete addominale. Terzo tipo di coinvolgimento, la cosiddetta perdita intestinale. Ora, è un problema di cui si parla abbastanza sovente nella letteratura, un problema che viene spesso trascurato dai medici curanti. Ora, le cellule costituiscono le fondamenta della materia che costituisce il nostro corpo e le cellule sono legate in maniera molto stretta le une alle altre. Non c'è molto spazio fra una cellula e l'altra. È per questo motivo che è difficile che si introducano intrusi fra una cellula e l'altra. Ma alle volte può succedere, per tutti i motivi che vi ho spiegato prima, soprattutto a livello intestinale, per i problemi che vi ho spiegato prima, per i problemi che ho elencato prima. Alle volte questi spazi fra le cellule possono aprirsi. Quando questo succede, delle particelle di cibo, di materia, si vanno a collocare nello spazio fra queste cellule. Questo causa una risposta immunitaria. Il risultato di questa risposta immunitaria è l'intolleranza alimentare. È per questo che spesso i pazienti effetti da EDS sono allergici a vari tipi diversi di cibo e così via. Abbiamo parlato anche di istamina, attivazione dell'assimina, dell'istamina, attivazione dei mastociti. Ancora mancano prove concrete, empiriche, forti. Ma sono molti i nostri pazienti affetti da allergie, da sintomi alimentari molto interessanti. Molto spesso naturalmente l'intolleranza non ha nulla a che vedere con l'EDS. Ci sono pazienti che sono intolleranti al lattosio e ai carboidrati per motivi totalmente indipendenti dall'EDS. Ma esiste una piccola percentuale di pazienti affetti all'EDS che sviluppano proprio le allergie a causa dell'EDS stessa. Una diagnosi questa è difficile da fare, ma si può fare. Sintomi frequenti, crampi, diarrea, flatulenza e così via. Anche la POTS è un tipo di sintomatologia che ha a che vedere con il tratto gastrointestinale. Quando mangiamo aumenta anche la supplementazione di vitamine e abbassa la pressione sanguigna e aumenta il battito cardiaco. Questo può produrre sintomi come vertigini, ci sono delle pressioni che si sentono molto spossate, si devono sdraiare dopo aver mangiato. C'è anche la sindrome dello svuotamento veloce, perché ci sono diverse parti che lavorano insieme per processare il cibo. quindi il cibo viene ingerito e si svuota velocemente l'intestino. Quindi come ho detto che ci sono molti vasi sanguigni nell'intestino, intorno all'intestino. Quindi per i cibi carboidrati, i cibi con molto zucchero, c'è uno svuotamento molto veloce dell'intestino che diventa questo. Il cibo appunto diventa liquido e la concentrazione di questo fluido è molto intensa nell'intestino tenue e si produce quindi un osmosi. quindi abbiamo una membrana semipermeabile dove c'è una grande concentrazione di fluidi e dall'altra parte una bassa concentrazione di liquidi, quindi si passa dalla bassa concentrazione all'alta concentrazione per raggiungere la normalità. Quindi se c'è una grande concentrazione di cibo nell'intestino tenue e il plasma dei fasi sanguigni cerca di neutralizzare e quindi questa è la sindrome di che è lo svuotamento veloce. Quindi in presenza di carboidrati e di alimenti con molto zuccheri ci può essere questa sensazione di crampi, di vertigini che a volte si ha dopo aver ingerito questi alimenti. quindi è importante sapere che ci può essere un problema che ha a che vedere con la diagnosi dell'EDS e quindi spiegare che cosa sappiamo di questa associazione di sintomi per riconoscere che c'è un'associazione tra tutti gli altri sintomi e i sintomi dello stomaco. quindi è necessario avere un approccio multidisciplinare, devono intervenire medici e specialisti appunto di medici di varie specialità, nutrizionisti per gestire il dolore, anche un approccio psicologico. Un'altra cosa di cui dobbiamo assicurarci è che dobbiamo escludere altre cause organiche perché questi pazienti hanno altri sintomi e dobbiamo anche escludere che le malattie come le malattie celiache o la sindrome dell'intesino sensibile. e anche fare altre ricerche a livello psicologico, dobbiamo studiare appunto, fare una serie di test per vedere se c'è una crescita eccessiva delle batterie, anche degli studi sul pavimento pelvico per cercare di trovare la causa giusta del problema. molti pazienti parlano anche di un'intolleranza alimentare e non sappiamo bene quale sia la migliore dieta per il paziente ma quello che vi farò vedere nella tabella successiva è che ci sono dei alimenti come i carboidrati o gli alimenti ricchi di zucchero che aumentano questi problemi. Quindi l'evidenza comunque... Non ci sono degli studi clinici controllati che sono stati fatti sugli effetti dell'istamina per esempio. Ci sono dei pazienti che presentano molte allergie, allergie che hanno a che vedere con la dieta e dove gli stabilizzatori dell'istamina possono ridurre determinati sintomi. Questo è uno studio che è stato pubblicato che dice che se si usa un tipo di dieta determinata per i pazienti di EDS se si è affetti da una sindrome di svuotamento veloce dell'intestino bisogna mangiare piccole quantità e spesso cibi che abbiano un contenito glicemico limitato aumentare l'ingesta di grassi e proteine bisogna poi sdraiarsi 30 minuti dopo aver mangiato perché questo riduce i sintomi post-prandiali, le palpitazioni, le vertigini e poi la terapia farmacologica può anche aiutare. La nutrizione interale parentale è necessaria per alcuni pazienti in piccole percentuali di pazienti ma ci può essere appunto dobbiamo considerare come possiamo migliorare le condizioni di questi pazienti prima che possano sviluppare POTS o una sindrome di alterazione dei mastociti poi c'è una piccola quantità di pazienti che hanno dei problemi alimentari che quindi devono essere anche seguiti da un team psicologico perché possono sviluppare sintomi come ansia, depressione poi bisogna evitare degli analgesici molto forti perché aiutano a... perché possono peggiorare i sintomi perché rallentano la funzione dell'intestino quindi bisogna cercare di calmare i nervi quindi l'approccio psicologico come l'ipnosi la respirazione, la meditazione per quanto riguarda invece la stipsi bisogna stimolare appunto l'evacuazione con questi farmaci che possono aiutare nella gestione della stipsi a volte ci sono grosse difficoltà per evacuare in questo tipo i pazienti poi proprio qui bisogna anche usare anche dei biotici su pazienti che hanno bisogno quindi per riassumere abbiamo bisogno quindi di un approccio multidisciplinare per i nostri pazienti perché ci sono sintomi molto difficili abbiamo bisogno quindi di servizi che ci permettono di curare meglio i nostri pazienti vorrei ringraziare le persone che mi hanno aiutato in questa presentazione per avermi invitato a fare questa presentazione bene entro nel vivo è comune avere dei problemi dell'intestino in questi pazienti? sì ci possono essere dei problemi di motilità in tutto l'intestino ed è possibile che la vescica la cistifelle ci possono essere problemi anche nell'EDS non c'è un rapporto diretto dimostrato negli studi che abbiamo realizzato abbiamo trovato fino adesso è frequente che l'intestino grasso o altri elementi del sistema digestivo dell'apparato digestivo abbiano una dimensione maggiore o che si siano spostati sì è possibile che sia in una posizione diversa di quella normale perché i legamenti sono molto lassi e quindi l'intestino può scendere questo succede anche col colon e abbiamo anche visto che il pavimento pelvico può essere molto mobile e può rendere l'evacuazione difficile possiamo vedere un prolasso possiamo vedere anche il prolasso di altri organi sì questi problemi si possono presentare sono abbastanza poco frequenti ma sì li possiamo vedere che cosa pensa per quanto riguarda i problemi a livello gastrico cosa si può fare a lungo termine quindi come gestiamo il reflusso ci sono per esempio l'alimentazione bisogna ridurre il cibo che riduce che causa questi sintomi e quindi fare un trattamento che ritarda lo svuotamento dello stomaco sì l'acido ci aiuta a mantenere il controllo sulle materie stomaco e se abbiamo un acido eccessivo possiamo avere molte batterie batteri quindi dobbiamo fare molta attenzione a lungo termine perché ci può essere una ricaduta si possono usare determinati farmaci che hanno un effetto meno invadente che gestiscono meglio il flusso gastrico senza dover ricorrere agli antagonisti dell'istamina e quali sono i risultati nelle persone celiache? no c'è un rapporto tra i problemi con una persona affetta da EDS e problemi con una persona affetta da celiachia è più frequente soffrire di celiachia se si affetti da una sindrome di ipermobilità particolare ma non c'è un rapporto diretto e per quanto riguarda l'alimentazione quali sono gli integratori sali, magnesi che possono migliorare la vita dei pazienti non esiste una guida chiara bisogna migliorare comunque in generale l'ingestione degli alimenti o ingerire degli integratori per esempio il magnesio i pazienti a volte lo trovano utile ma è un qualcosa di cui bisogna parlare con lo specialista della nutrizione con il dietologo per cercare di avere un'alimentazione bilanciata se è possibile e poi questa varia da individuo ad individuo non è uguale per tutti i sintomi di... per ingogliare c'è un rapporto tra il vomito e la migrania ci sono dei trattamenti si è più comune in pazienti che soffrono di migrania quindi la migrania l'allergia problemi del sistema gastrointestinale problemi con il cibo sono tutti fattori che sono relativi all'istamina e all'attivazione dei mastociti e in questi pazienti quando troviamo con l'istamina gli stabilizzatori dei masticiti devono anche ricevere dei trattamenti per le migranie gli stabilizzatori possono aiutare quindi ci sono dei punti in comune che hanno a che vedere con l'istamina e con i mastociti per quanto riguarda la migrania è stato già studiato che l'istamina può svolgere un ruolo importante avete i dati tra i problemi intestinali e l'EDS? Sì, ci sono molti studi che tutto il mondo sui problemi intestinali e l'EDS quindi l'associazione tra i sintomi dell'EDS i sintomi gastrointestinali esistono ma bisogna capire la loro relazione e la fase successiva è capire che cosa causa questi sintomi se il problema è nei muscoli nei nervi del tessuto connettivo e come interagiscono tra di loro questo è ciò che bisogna capire meglio fantastico siamo veramente fortunati che il dottore Asin sia qui perché ha fatto una grande ricerca a livello mondiale quindi grazie grazie per il suo contributo